Il miglioramento meteorologico del venerdì lascia a Pesero una conta dei danni da maltempo dei due giorni precedenti che il sindaco Andrea Biancani stima superiore ai 350.000 euro. Una lista dei danni che si è allungata oggi con il crollo di 10 metri del muro di perimetro del cimitero del conventino di Monte Ciccardo per un intervento di ripristino calcolato in circa 50.000 euro. Una cifra che va a giungersi ai 200.000 già calcolati per la frana della strada dell'Angelo Custode che ha rappresentato il danno più complesso assieme alle frane avvenute nella panoramica sotto Castel di Mezzo che hanno portato altri smottamenti di detriti che rischiano di creare un altro cedimento stradale nel collegamento fra Pesero e Gabice. E poi ancora smottamenti nelle colline sopra Santa Veneranda e decine e decine di alberi caduti. Una conta dei danni che Biancani elenca con la precisazione di una situazione d'urgenza che continua a ripetersi con un carattere sempre più rituale togliendo sistematicamente risorse agli interventi previsti e già messi a bilancio. Biancani sottolinea anche come i corretti comportamenti dei cittadini siano stati fondamentali per evitare situazioni di pericolo e ringrazia il superlavoro di Centro Operativo Comunale, Polizia Locale, Aspes Protezione Civile e Marche Multiservizi intervenute con grandi sforzi per attenuare i disagi delle emergenze. Si rimarca anche come diventino sempre più urgenti una serie di interventi di reggimentazione nelle acque dei terreni per non continuare a vedere ripetersi di sistematici distaccamenti di terra che invadono le strade come avvenuto sotto Villa Caprile o su strada del Monte Feltro. Tra i danni da maltempo si è registrata anche un'importante rottura dell'acquedotto principale che serve alla città di Pesaro e il suo comprensorio nella zona sopra Santa Veneranda. Una ventina di operatori di Marche Multiservizi si sono alternati dalle due di notte alle due di pomeriggio per riparare il guasto e sostituire 20 metri della condutta principale impiegando due scavatori, un camion con gru e diversi altri mezzi aziendali. La tempestività dell'intervento ha consentito di ripristinare il servizio prima che i serbatò di San Gaetano si svuotassero riducendo al minimo i disagi per la città.